Eccoci qua amici dei social media di Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne metta, anche Instagram ovviamente. Siamo qui sulla spiaggia Lido Poseidon per Apure Hotel, Silvi Marina, Eco Sport e quant'altro. E siamo pronti con tutti i nostri ospiti, a noi un po' pochini ma non ci importa perché quest'oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Lei viene da lontanissimo, dalla soleggiata e fresca allo stesso tempo città di San Marino. Per noi c'è la nostra? Linda. Linda, allora Linda racconta a tutti i nostri amici dei media, intanto facciamo vedere anche l'allegra famigliola. Salutate ragazzi, ciao, ciao, belli, quanto siete belli. Linda raccontaci un poco come sta andando la tua vacanza, questa settimana di vacanza, come sta andando? Dai, dicci un po'. Allora la vacanza è partita benissimo, con tempo spettacolare e anche se brucia ma ci sta bene perché sei in vacanza. Ci si diverte tanto, sono più di 18 anni che veniamo qui e se ci permette la situazione torneremo sempre. Sicura, sei sicura? Ma dicci una cosa, gli animatori, quelli brutti, cattivi, che stanno con quelle maie o con quelle divise azzurre colorate, sono bravi o no? Dicci la verità, dicci la verità, tanto lo sappiamo come siamo. Vai, vediamo se ce lo confermi anche tu. Quest'anno si sono superati, sono molto bravi, divertenti e ti fanno divertire. Ma Linda sei sempre stata buonissima con noi, ti ringrazio e salutiamo anche voi. Grazie ragazzi, ciao Linda, ciao belli. Ciao. Alla prossima, sempre qui dal Silvi Marina a Pure Hotel. Ciao belli. Ciao belli.